Musica Buongiorno e bentrovati anche questa mattina all'appuntamento come ogni mattina con il Tg del mattino di TRG la nostra rassegna stampa nel corso della quale leggeremo come sempre prima i titoli e poi le notizie nei quotidiani in edicola nella nostra regione che in particolare riguardano i nostri territori e siamo al giornale dell'Umbria che titola sulla vicenda nazionale delle tangenti all'ANAS 10 gli arresti, misure cautelari nei confronti di 5 dirigenti e funzionari, 3 imprenditori, un avvocato e l'ex sottosegretario alle infrastrutture Luigi Meduri e poi P.P.E. pace fatta Berlusconi Merkel, Tajani confermato vicepresidente, dopo 4 anni l'ex cavaliere torna al congresso del Partito Popolare Europeo ma ci sono anche e soprattutto le cronache locali sulla prima del giornale, l'inchiesta rifiuti sopra il luogo a Pietramelina i primi interrogatori e poi le scuole del futuro, sono state scelte 5 città nelle quali sorgeranno e poi vedremo quali sono per le province, dopo l'accordo oltre 400 dipendenti col fiato sospeso e ci sono i numeri del progetto Decathlon in commissione questo per Perugia e ancora più strisce blu e nuovi autovelox, la strategia di terni reti a Perugia rimandati i lavori sul raccordo, attesi per la verità con grande timore da chi il raccordo lo percorre tutti i giorni si partirà il 6 novembre a Città di Castello, nuovo polo culturale a Palazzo del Podestà, a Gubbio invece lettera al vetriolo in comune, si rischia la denuncia, c'è anche spazio per gli spettacoli Umbria Jazz Winter ecco il cartellone, il bilancio verso il pareggio, una buona notizia dal rapporto Conf Commercio e Censis perché sembrerebbe che i consumi nella nostra regione siano in ripresa e poi c'è la storia della cavallina albina che vola in Svezia dall'allevamento Carfagna di Assisi prima pagina del Corriere dell'Umbria, piano sociale contro le povertà del quale ci parla appunto il Corriere poi da Perugia a Mense il primo round va a Palazzo dei Priori, da Terni dalla saliva si scoprirà se chi guida è drogato e per Gubbio tartufi da record alla mostra nazionale un brutto fatto di cronaca da Spoleto, avance su Facebook a due minori un sessantenne sotto accusa per presunte molestie sessuali a ragazzini, Don Matteo domani a Ferentillo e poi a Città della Pieve a Foligno le rubano medaglione con foto dei figli defunti viabilità, lavori sul raccordo al via dopo la fiera dei morti andiamo alla prima pagina della Nazione Umbria mano pesante sugli ultra del Grifo 12 d'aspo alla vigilia del derby per gli incidenti nel dopo partita col Cesena e poi sotto tiro viaggiano in treno senza avere il biglietto e aggrediscono i controllori e quattro giovani denunciati ripetuti episodi di violenza e quindi sotto tiro c'è il personale viaggiante di Ferrovie dello Stato dal comune non si può telefonare a casa un PIN impedirà ai dipendenti di chiamare numeri privati e non di servizio Whatsapp alla Verbanella messaggini contro spaccio e furti nel parco e sull'emergenza traffico, i cantieri sul raccordo dopo la fiera e la Nazione parla anche di una studentessa perugina modella per caso e dunque divenuta celebre grazie ad una pubblicità ambiente ed intorni l'ARPA si difende dagli attacchi hacker la prima agenzia a garantire la sicurezza dei dati questa è la prima della Nazione chiudiamo con la prima pagina del messaggero Umbria sicurezza giubileo piano di intelligence monitoraggio dei flussi espulsioni chirurgiche contatti con le guide del mondo islamico il sindacato Siulp dice bene l'arrivo di più poliziotti e carabinieri decisiva la prevenzione e sugli scontri al Curi un titolo in prima pagina anche sul messaggero tifosi puniti fino a 7 anni 12 da spagli ultra indagini su altri 10 supporter raccordo per ora un solo cantiere dopo la fiera ieri c'è stato il vertice in prefettura che ha deciso per questo avvio ritardato dei lavori e sul pubblico impiego parliamo di provinciali una corsa contro il tempo una settimana per evitare 100 esuberi e ancora all'angolo del meteo in arrivo un bel weekend la buona notizia da Gilberto Scalabrini e torniamo alle pagine del giornale dell'Umbria per gli approfondimenti che riguardano le cronache regionali si parte con l'inchiesta sui rifiuti i primi interrogatori e sopralluoghi gli uomini della forestale alla discarica di Petramelina per acquisire il nuovo materiale ed è attesa per i risultati delle analisi ricordiamo che sono 16 le persone iscritte al registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta gestione illecita dei rifiuti gli indagati sono anche alcuni dei vertici delle due aziende Gesenu e TSA nell'occhio del ciclone le scuole del futuro in 5 città sono stati scelti i centri umbri in cui sorgeranno i plessi si tratta di Corciano, Terni, Assisi, Perugia ed Umbertide su questi centri una pioggia di milioni per dotarli di scuole all'avanguardia parliamo anche di sanità Gincana sui direttori entro il 31 dicembre la decisione sui vertici di ASL ed aziende difficile che si vada ad una riconferma in blocco o alla sostituzione di tutti e quattro gli apicali prima di Natale anticipa il giornale ci sarà la stretta e ancora province 400 dipendenti col fiato sospeso è stato siglato un accordo per la mobilità di 235 unità ma ora si deve lavorare per tutti gli altri intanto il Movimento 5 Stelle stigmatizza le poche sedute programmate in regione solo due consigli al mese ed è polemica queste le cronache regionali dal giornale ora siamo al Corriere dell'Umbria uno strumento per sconfiggere tutte le povertà la Giunta regionale ha preadottato il nuovo piano sociale l'Umbria viene così divisa in 12 zone operative in 7 capitoli sono state analizzate le azioni e le tematiche chiaramente sempre più presenti le difficoltà lavorative anche il Corriere parla delle province bilancio ancora da chiudere il giorno dopo l'accordo si è riunito a Terni il Consiglio presieduto da Digirolamo altre questioni da risolvere e si parla anche dell'inchiesta BPS il caso in Parlamento morando esame su eventuali condotte dolose e anche il Corriere ci spiega che sono 5 le aree per costruire nuove scuole Corciano, Terni, Assisi, Perugia ed Umbertide per loro in arrivo 8 milioni e mezzo di euro e sempre per le cronache regionali siamo alle pagine della Nazione insulti, aggressioni e capitreno denunciati 4 giovanissimi il gruppetto di Bulli è accusato di oltraggio, di violenza e di resistenza e ancora per il regionale si parla dei DASPO dopo la partita Perugia-Cesena sono 12 provvedimenti fino a 7 anni di squalifica dagli stadi per gli incidenti ed è caccia ad altri 10 tifosi probabilmente un segnale forte alla vigilia del derby tra Perugia e Terni mazzette all'ANAS blitz in Umbria l'inchiesta da Manera perquisizioni anche nella regione Umbria e poi lo scandalo Gesenu la forestale a Pietra Melina ancora campionature chiudiamo con le cronache regionali dalla Nazione nuove scuole a prova di futuro dal Ministero 8 milioni di euro promossi i progetti di Assisi Corciano, Perugia, Terni ed Umbertide e sulla riforma delle province parla il Presidente Mismetti salvaguardare i posti di lavoro l'obiettivo ha detto è quello di arrivare a zero esuberi cronache regionali dal messaggero dell'Umbria provincio a fine mese rischio esuberi c'è una settimana di tempo per individuare i trasferimenti dei dipendenti che la riforma mette fuori dagli enti di area vasta sono un centinaio gli addetti che si trovano in bilico allarme per la polizia provinciale gli operai ex ANAS intanto il PD Umbro ha varato la nuova segreteria il segretario PD Leonelli ha detto lavoreremo insieme agli assessori regionali le scuole innovative nei cinque comuni che abbiamo già visto Corciano, Terni, Assisi, Perugia ed Umbertide e si parla anche del raccordo un solo cantiera al via dopo la fiera dei morti in prefettura l'ANAS accoglie la proposta di Polstrada e comune dal 6 novembre subito i lavori sul viadotto Genna quelli sulla Volumni potrebbero slittare a dopo Natale e ancora per le cronache Umbre il giubileo e il piano sicurezza questa è l'apertura del messaggero di oggi intelligence espulsioni e contatti con gli imam il sindacato di polizia sulp dice è importante l'arrivo di più poliziotti e carabinieri la prevenzione è un elemento decisivo sviluppate ai massimi livelli e sempre attive le forme di indagine di monitoraggio e di analisi investigativa dunque si punta sulla prevenzione le aggressioni ai capotreno sono stati denunciati quattro giovani questo per quanto riguarda l'ultima notizia regionale dal messaggero dell'Umbria e stiamo alle pagine dedicate all'economia cominciamo dal giornale che parla di consumi e di fiducia dalle famiglie arrivano dei segnali di ripresa nel 2015 il 25,6% ha aumentato la capacità di spese il 40% è ottimista per il futuro e poi per l'agricoltura e l'enogastronomia Giroglio d'Italia Foligno capitale dell'extravergine tappa Umbra del tour nazionale promosso nell'ambito di Expo 2015 sono tre i giorni della Kermess che prevede convegni e degustazioni e accade in questo fine settimana siamo ancora alle pagine economiche stavolta dal Corriere anche nel 2016 nessuna pressione fiscale l'annuncio è dell'assessore regionale Paparelli che commenta il via liberale legge di stabilità e ancora per l'economia del Corriere lezione di economia francescana e commercialisti l'interessante iniziativa organizzata dall'Odiceca la sala dei notari di Perugia ancora a Perugia ecco come le aziende devono comunicare bene le loro buone azioni all'università ieri si è parlato del ruolo sociale delle imprese economia dalle pagine della nazione di oggi 35 anni da commercialista consegnati 90 riconoscimenti a Perugia cerimonia alla sala dei notari ed ecco i nomi dei premiati buone notizie per il mercato immobiliare dell'Umbria sembra ci sia un'inversione di tendenza con il segno più chiudiamo con la cultura dalle pagine dei quotidiani di oggi e per cominciare siamo al messaggero weekend lungo sul palco da stasera a domenica oltre 20 concerti nei locali perugini da non perdere taglia pietra ex orme e bacio della medusa al festival art rock del teatro brecht e poi olio nuovo vino rosso e castagne l'autunno è servito con tante iniziative fra bevagna sisi foligno e corciano per euro chocolate c'è il gran finale in questa fine settimana e ancora siamo a parlare di una mostra di un evento culturale che ha tenuto banco per mesi nel perugino vertigine e umbra dall'aereo al drone l'umbria delle vertigini gran finale della più grande mostra di vedute dal cielo domenica gran finale in musica palazzo baldeschi con i tritone quartet e la famiglia perugina alla scoperta delle dimore storiche con villa von sauchen per la serie degli itinerari nella bellezza le armonie dell'edificio di marciano ancora per la cultura siamo al giornale dell'umbria in edicola oggi 100 concerti sotto il segno di sinatra orvieto è stato presentato il cartellone della 23esima edizione della manifestazione musicale the voice l'omaggio è stato affidato al cantante cartelling e nel duomo si esibiranno i light of love singers un coro gospel sul palco del mancinelli le incantevoli acrobazie dei black blues brothers acrobati africani che con la loro energia sono in grado di meravigliare spettatori di ogni età e poi vertigine in musica col tritone quartet domenica alle 18 concerto di chiusura dalla terrazza di palazzo baldeschi al corso ultimi giorni per visitare la mostra a prezzi ridotti intanto al cucinelli di solomeo a tempo di fantasy stuc sul palco volfgang emmanuel schmidt e jan simon per interpretare schumann debussy e rachmaninov e per il tempo e per il tempo libero gubbio stregati dal bianco alla mostra mercato del tartufo tra show cooking concerti mostre laboratori e gare buon cibo anche a città di castello con il tiferno heat lo street food di qualità siamo alla cultura agli appuntamenti con il corriere umbria jazz winter anche qui pezzo di apertura dedicato alla rassegna musicale che si tiene nell'orvietano nel segno di the voice la 23esima edizione del festival di orvieto dal 30 dicembre al 3 gennaio conferma la sua formula e omaggio a frank sinatra tra gli italiani scusate fresu e rea perugia violoncello e pianoforte per schumann debussy e rachmaninov stasera il cucinelli e le opere di tre grandi autori sono affidate a wolfgang emmanuel schmidt e jan simon e ancora per la cultura siamo alla nazione presentata umbria jazz winter 2015 sarà un'edizione nel segno di frank sinatra il cartellone prevede l'omaggio a the voice nel centenario della sua nascita a solome un duo di virtuosi note classiche appunto al cucinelli al mancinelli evento internazionale black blues brothers e queste erano le pagine culturali e regionali ora gli approfondimenti dai territori siamo al giornale dell'umbria perugia progetto decathlon i numeri sul tavolo in terza commissione l'assessore perisco ha illustrato i dettagli l'azienda investe oltre 2 milioni di euro per la viabilità ricordiamo che il complesso decathlon sorgerà nella zona di olmo niente consiglio grande l'ira dell'opposizione al centro del dibattito dovevano esserci temi legati ai servizi educativi e l'esternalizzazione delle mense scolastiche oggetto di un ricorso al tar e nella foto i gruppi di PD e PSI durante la conferenza stampa contro la decisione della maggioranza in consiglio comunale perugino di non convocare il consiglio grande una conf commercio separati in casa pacificazione lontana nonostante i tentativi di mediazione restano lontane le posizioni dei perugini e dei vertici sulla Perugio a Bettolle si parte dopo la fiera dei morti riunione in prefettura con ANAS accolta la richiesta dei commercianti lavori al via il 6 novembre ancora per le cronache Perugine Eurochocolate per i golosi 6.000 buoni motivi numerose le proposte da gustare le iniziative dedicate al benessere nell'ultimo fine settimana dell'evento ancora per le cronache territoriali siamo a Foligno buoni lavori aiuti per persone in difficoltà progetto promosso dal Comune e dalla Caritas per ridare dignità a chi si trova senza occupazione con le iniziative messe in campo tre viaggiano in guerra per l'olivo più vecchio del mondo il giudice Fausto Cardella proverà a sciogliere il dilemma domani con la sentenza durante l'ottobre Trevano e dunque due antichissimi olivi che saranno rispettivamente difesi con vere e proprie relazioni scientifiche per il Comune di Trevi dalla coppia di legali Domenico Benedetti Valentini e Valentino Brizzi in difesa del Comune di Giano dell'Umbria l'avvocato Giovanni Picuti e l'avvocato Donatella Tesei anche sindaco di Montepalco proseguiamo con la cronaca richieste sessuali a due minori educatore sotto processo i ragazzini sarebbero stati molestati via chat a uno sarebbero stati offerti anche 20 euro e ancora per le cronache territoriali dall'Alto Tevere Palazzo del Podestà nuovo polo culturale le sale trasformate in una moderna biblioteca che aprirà domani al pubblico ed ecco gli orari per frequentarla a San Giustino nel frattempo la polizia ha controllato oltre 100 persone e da questi controlli è emersa una denuncia siamo a Gubbio lettera al veleno scatta la denuncia di che cosa si tratta la lettera sarebbe quella inviata da Scelgo Gubbio al sindaco Filippo Mario Stirati atto non ufficiale ma del tutto confidenziale bene stata pubblicata e in comune si pensa di agire per vie legali contro ignoti per violazione della corrispondenza privata altri 80 mila euro per le famiglie bisognose nuovi aiuti economici a Gubbio con il progetto sostegno alle situazioni di povertà nel comune di Gubbio dal 2013 sono stati erogati oltre 413 mila euro una cifra che la dice lunga sulla situazione di disagio che non è soltanto di Gubbio ma è diffusa in tutta la regione la cavallina albina alla corte dei re mondiali del trotto siamo ad Assisi dove la scuderia di Carfagna cede via latte alla Natson Trotting AB ma si mantiene per sé i diritti di immagine in piazza del comune c'è unto la festa dell'olio nuovo dal 29 ottobre torna la manifestazione dedicata all'oro verde della tavola il programma delle iniziative queste erano le cronache locali dal giornale dell'Umbria ora siamo al corriere anche qui partiamo da Perugia quando l'inferno esplode tra le mura di casa tradimenti e alcol accendono la violenza marito padrone condannato a un anno e otto mesi in altri casi anche le donne maltrattano e sequestrano i compagni il tar rigetta il ricorso dei genitori questo per la vicenda mense scolastiche nel comune di Perugia primo round al comune ora i giudici dovranno entrare nel merito della vicenda per l'inchiesta sui rifiuti la forestale torna Pietramelina c'è il via libera i primi interrogatori prelevati altri campioni riesame slitta ancora la data via del cortone verso la riqualificazione dopo l'elogio tocca a bel vedere aree verdi il comune di Perugia ha affidato lo spazio all'associazione Borgobello impegni di valorizzazione entro la prossima estate siamo a città della pieve per Don Matteo ciacchi in città la troupe nella patria del Perugino per pillole di riprese le scene saranno girate davanti al Duomo e nelle piazze ad Assisi i cittadini scrivono alla sovrintendenza per un ulteriore controllo sull'antenna la stazione radiobase continua a far discutere e il comitato si esprime sull'inopportuna sede scelta ricordiamo che dopo domani domenica è prevista una manifestazione in piazza Santa Maria degli Angeli proprio contro l'antenna e organizzata da un comitato civico spontaneo la cavallina vola in Sviezia alla corte dei re del Trotto parliamo ancora di lei di Via Lattea dell'allevamento Carfagna che sta per lasciare Assisi appunto alla volta delle terre svedesi e poi incontro per la pace si rinnova l'appello contro la guerra il 27 ottobre ricorre l'anniversario dello storico evento voluto da Papa Wojtila che chiamò i rappresentanti di tutte le religioni a città di Castello nel frattempo la biblio miniatura avranno soluzione permanente e gli spazi al palazzo del Podestà che ricalcano quelli di Palazzo scusate Vitelli a Sant'Egidio città di Castello due giorni con il premio letterario terza edizione suddivisa nelle tre sezioni narrativa poesia e saggistica e sempre per l'area Tifernate incontro sulla sicurezza gli assessori PD rispondono alle critiche della Lega era stata segnalata la mancata partecipazione ad Umberti della pulizia delle strade lascia molto a desiderare discussa in consiglio comunale l'interpellanza del Movimento 5 Stelle e poi controlli a tappeto della polizia per prevenire furti e reati è un tortufo bianco di oltre 550 grammi ad aggiudicarsi la gara di pesatura si è svolta a Gubbio è stato l'atto inaugurale della mostra mercato nazionale il premio è andato a Luca Millucci gli amici del cuore hanno una nuova casa taglio del nastro per la sede del sodalizio Eugubino l'inaugurazione nella ex struttura della biblioteca sperelliana un rinforzo di 80 mila euro per il fondo di solidarietà nel comune di Gubbio ed oggi si terranno i funerali di padre Giacomo Speziali è scomparso martedì all'età di 91 anni era stato rettore della basilica di Sant'Ubaldo i funerali a San Sebastiano a Roma ancora per gli eventi da Gualdotaduno a autunno e poi fino a gennaio si comincia giovedì con Gualdolio terza edizione della manifestazione dedicata alla produzione locale dell'extravergine e dentro il prossimo novembre sempre a Gualdotadino partiranno i lavori della Telecom per installare la banda larga siamo a Foligno anziana derubata in strada sparisce pure il medaglione con la foto dei figli defunti un furto definito a ragione davvero incredibile la donna è stata fermata con la scusa di un'informazione si è ritrovata con un falso al collo senza rendersene conto è il secondo caso in pochi giorni dunque non si fa mai abbastanza per raccomandare prudenza soprattutto agli anziani aggredivano i capodreno bulli denunciati fermati dalla Polfer quattro ragazzi poco più che ventenni protagonisti di episodi di violenza sui convogli ancora Foligno lavoro per ridare dignità ai più poveri comune Caritas scendono in campo al via una serie di interventi di promozione e inclusione volti a persone che versano in condizioni di disagio sociale e per la Quintana lo Spada presenta il nuovo Audace domani conferenza stampa per ufficializzare l'arrivo di Scarponi che lascia il Croce Bianca dopo tanti anni di collaborazione e aggiungiamo di grandi vittorie salvarono una famiglia di ebrei dai nazisti premio alla memoria una coppia di Trevani la cerimonia dedicata ad Agostino Falchetti e Clementina Marti Fagni nella sala consigliare del comune il 29 ottobre chiudiamo la rassegna dei territori da Spello girandola di eventi per la rassegna letteraria Passaparola seconda edizione della manifestazione dedicata a chi vuole condividere pensieri emozioni e buon cibo si terrà dal 31 ottobre al 14 maggio siamo ora ai territori dal quotidiano la nazione e parliamo del comune comune di Perugia piange il telefono perché saranno ammesse solo chiamate di servizio arriva il codice PIN per i dipendenti niente conversazioni private molte perplessità ma l'idea è quella di risparmiare e di frenare i furbetti intanto al parco della Verbanella spaccio e furti si combattono anche con Whatsapp l'autodifesa del quartiere dopo l'incontro con il questore Gugliotta grazie a Whatsapp al sistema di messaggistica potranno essere segnalati problemi ed emergenze in zona ancora per i territori dalla nazione monumento assediato dalle automobili la giunta subito interventi per tutelarlo a Borgo 20 giugno il comune prende impegni per Ari serve rispetto anche la nazione parla nelle pagine interne dei lavori sul raccordo cantiere a rate ma dopo la fiera il 6 novembre si comincia da Madonna Alta e nel tunnel volumni lavori fino a Natale intanto Decathlon da ossigeno alla rotatoria quattro torri con l'arrivo del colosso francese in quell'incrocio 500 auto in meno in ogni ora e proseguendo con la rassegna dai territori arriviamo ad Assisi tutti all'attacco delle antenne per la telefonia comitato civico e forze politiche contrarie all'installazione in via del caminaccio bassi a Umbra c'è speranza se accade evento educativo all'Umbria Fiere quinto incontro nazionale per la rete di cooperazione siamo a Gubbio maltrattamenti in famiglia condannato un anno e otto mesi di reclusione per la moglie l'incubo durava da decenni a Gualdo Tadino presentata la manifestazione Gualdolio a Gubbio aperta la mostra battuta all'asta un tartufo da 500 grammi città di Castello nel frattempo libri in prestito in centro il comune apre una mini biblioteca tre sale dedicate alla lettura e per il premio letterario in giuria anche l'attrice Anna Canakis oggi e domani eventi per i vincitori delle varie sezioni Umberti del centro sociale la realizzazione è una priorità è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche città di Castello camera di commercio vicina alla chiusura è pronto un progetto provinciale per ridimensionarla dipendenti a Perugia per tre giorni a settimana a San Giustino stop ai furti si rafforza l'operazione controlli siamo a Foligno per trascuratezza uccise il collega da Biasimare ma non è assassino si parla della tragedia che avvenne nella caserma di Foligno dove morì Emanuele Lucentini lo vediamo nella foto e a destra Armeni che ha fatto ricorso in Cassazione delitto senza movente ha detto la procura di Spoleto si appresta a mandare a processo il carabiniere sosta a pagamento scontri inapplicabili nonostante l'ordinanza le macchinette che erogano i ticket non sono state aggiornate lo segnala Stefania Filipponi dall'opposizione chiudiamo la rassegna dai territori con il caso BPS che infiamma il Parlamento a Spoleto i Grillini chiedono la testa del governatore Banca Italia visco indagato ora si dimetta e morando replica le indagini verificheranno solo gli eventuali comportamenti dolosi c'è una nota che riguarda il bilancio del comune di Foligno 800 mila euro di disavanzo lo sostiene dall'opposizione Riccardo Meloni capogruppo di Forza Italia chiudiamo con i territori dal messaggero dell'Umbria in particolare con Perugia mense per ora nessuna sospensiva dell'appalto il TARA ha acquisito il ricorso dei genitori perugini l'esito resta in bilico il centro-sinistra attacca sul Consiglio Grande la Giunta evita il confronto con i cittadini dicono e ancora per i territori gubbio niente parco il comune si è dimenticato la zona di Fontevole è lasciata abbandonata lì doveva spuntare una zona verde era prevista una spesa di circa 30 mila euro di recente l'area è stata usata anche per stoccare rifiuti i residenti preoccupati chiedono certezze sui tempi città di Castello Tiferno It parte l'evento Slow Food e ancora per i territori siamo a quello Folignate Quintana cambi di sella ecco chi arriva e chi lascia rumors danno antici all'ammanniti e chicchini verso il rione di via Butaroni per Andrea Leonardi possibile ritorno alla Mora e non solo questo secondo il messaggero di oggi che parla di flussi turistici in città c'è un più 17% e questi erano i territori ed ora come sempre una brevissima pausa torneremo fra poco e vi parleremo di sport non mancate